E per tutti ragazzi come va? Io spero bene, siamo in questo nuovo video di Brawl Stars Cioè non resisto, ragazzi veramente non resisto, devo aprire queste dieci cassette Vuoi trovare almeno conto su Frank I miei obiettivi adesso ragazzi sono Frank Beryl E Spike, ma Spike non lo troverò mai, cioè lo troverò un giorno, spero Però adesso no, ok O anche Mortis Cioè io ragazzi, scusate se il video lo faccio un po' tardi però non resistivo, ho detto va, facciamolo Direi di prima di aprire una cassetta, poi facciamo qualche partita e poi concludo il video Apriamo una cassetta, questa Niente Non troverò niente, però conto su quei rifiuti Frank, Frank, raga no no Frank, 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 no No raga non ci credo, sapevo, mamma mia lo sapevo Di apriamo queste casse ma non so se troverò qualcosa Ci sono tutti gli epici raga, datemi un super raro No Frank, però sono contentissimo raga, no Frank No raga Raga sono troppo contento Frank, già punti 10 di Frank, dai apriamo questa 3 skip, potrei trovare qualcosa ma non credo, è ovvio No raga talk, так No raga No No, spero, spero, spero Spero, Frank, no non ci credo Adesso i miei BTV sono, non ho più gli epici No Aspetta invito mia sorella Sara Oh raga Facciamoci una bella partita con il nostro amico Frank No non ci credo Singolo Vai Frank No 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 Raga basta Allora ragazzi gli ho finiti gli epici Meno male Trovo Basta sti epici però dai Adesso gli ho finiti potrò trovare almeno Super rari i mitici Quello sarà un po' difficile ma troverò forse i super rari Ma gli epici i mitici Spero Forse è una mega cassa Ad 5.000 cop Vieni qua Ragazzi farò un po' il nambo perché sono troppo Contento Cioè ma Cioè una roba più strana di così Non c'è Che c***o Con il mio bellissimo power up No c'è Un po' di giorni fa trovo Ho trovato Cosa Vieni qua Eh guarda raga Qua c'è Non prendo intanto dove sono adesso Vieni qua C'è il coraggio Raga faccio un po' il nabbo Cioè Voglio tenermelo sempre a grado 1 Poi Vieni qua 7 power up Non mi beccherei mai Dov'è dove è Raga scusa Scusate ma Ulti Madonna raga Faccio il devasto Con il mio bellissimo Frank Fio di Cicco Pinto io ce lo porto al grado 2 Sì Grado 2 No Non ci credo Accetta Non disturbare Ok raga Intanto sono contento Direi di finire il video Spero che Spero che vi sia piaciuto il video Soprattutto per il nostro amico Frank Che abbiamo appena trovato Iscrivetevi al canale E Ciao E lasciate like E Ciao